Buongiorno ragazzi, quello che posso dire io è che ci sono tante persone che soffrono e le vediamo anche su YouTube, anche se non hanno i nostri colori addosso, ma ormai siamo arrivati al punto che gli stessi tifosi della Juventus si stanno dissociando da un personaggio, soprattutto quelli che lui nomina non li vedrete mai su quel canale, perché si sono dissociati e lo hanno detto anche a me. Mi sembrerà strano, ma vi garantisco che è così. Quindi gli stessi tifosi della stessa squadra si dissociano e non vogliono essere minimamente rappresentati da quello che si pettina con la simmental scaduta. C'è anche da dire, c'è anche da intervenire sul lato psicologico, perché di solito, e io non sono uno psichiatra né uno psicologo, ma di solito l'offesa nasce da un rifiuto, nasce da un consenso negato, nasce uno offende perché è poco considerato e cerca di sminuire l'altro e di prevalere su chi offende. Quindi chi offende costantemente tutti i giorni non è a posto a livello psicologico e non c'è nulla di male. In riferimento a questo, io ricordo che il bonus psicologo 2024 sono state appena pubblicate le gradatorie, bisogna usarlo entro 270 giorni. Non c'è nulla di male ad usare lo psicologo, l'ho usato anch'io, io ho fatto il militare nei paradotisti e c'era il supporto psicologico, per esempio, l'ho usato tantissime volte. Quindi secondo me c'è qualcuno che ha veramente bisogno di uno, andrei dallo psichiatra, più che uno psicologo, ma guarda, questo è un abbraccio che io ti faccio, perché si vede che non sei, che hai bisogno di sfogarti, si vede che non ti rendi conto nemmeno di quello che stai facendo, stai allontanando i tuoi stessi tifosi perché solo qualche mentecatto può dare retta a tutte le fandonie e a tutte le falsità e alla falsa informazione che viene fatta su un canale. Io lo posso dimostrare perché, ti spiego, Frattesi è stato riscattato a 29 milioni più 4 di bonus, dilazionato in tre anni, il 2 luglio. L'Inter ha riscattato Frattesi il 2 luglio, e ti sfido a dire l'incontrario, è pagabile in tre esercizi. L'Inter vende Onana al Manchester United e il Manchester United paga Onana all'Inter in quattro esercizi. Tutti i giocatori ormai vengono pagati in due o tre esercizi, ma l'Inter ha riscattato Frattesi e ha pagato anche la prima rata. Intanto ha pagato il prestito con mulattieri di 5 milioni e il 2 di luglio l'Inter ha tirato fuori per Frattesi circa 10 milioni di euro, la prima rata. Quindi stai facendo falsa informazione. Ecco perché ora anche molti tifosi della Juventus si incominciano a dissociarsi da te. Perché stai andando sul ridicolo. Poi un'altra roba falsa che è stata detta e che mi hanno riportato, sempre se è vera, ma correggetemi voi se sto dicendo cose non sono vere, mi parlano di ispettori federali che sono andati in uno studio e sono stati messi a conoscenza delle verità. Quali sarebbero queste verità di cui sono stati messi a conoscenza? Il processo prisma? Il patteggiamento? Quali sono le verità? Dimmi quali sarebbero state queste verità? Poi se sono stati messi a conoscenza dove sono i deferimenti all'Inter? Se hai le prove di quello che dici perché te dici talmente tante fandonie che te... Cioè la gente si mette a ridere altro che ispettori federali. Te a malapena un ispettore di polizia ti può ascoltare a te. Quindi o tutto quello che viene detto è falso, oppure sono tutti i teristi. Dai magistrati, agli avvocati, al tutto il sistema FIGC, ma fino a prova contraria il capo della FIGC non ha detto salvaguardiamo il brand Inter. Ha detto salvaguardiamo il brand Juve e così ha fatto perché vi ha tolto dalla melma e vi ha ritirato fuori per i capelli perché voi non dovevate partecipare al campionato italiano. Tra l'altro io voglio dire anche una cosa e saluto Vince per quello che riguarda poi il processo prisma. E' vero che alla giustizia sportiva è già tutto finito tra luce e vino, ma se il Tribunale di Roma condanna Agnelli e soci, il mondo della giustizia sportiva si farebbe ridere dietro perché poi dopo la cosa non sarebbe allineata. Quindi dipende molto dalla condanna del processo prisma. Ma perché, e questo può succedere anche a livello legale detto anche dall'avvocato PR, perché qualora venissero accertati dei fatti gravi, l'aggiotaggio è gravissimo, potrebbe ripercuotersi anche sulla giustizia sportiva. Perché altrimenti la giustizia sportiva sarebbe qui e il processo prisma, magari le condanne sarebbero qua e dovrebbero fare in modo di allineare tutto. Capito qual è il discorso? Gravina ha salvato il vostro di Brandon, il tuo di Brandon, non ha salvato il nostro. Gravina parla della Juve, non parla dell'Inter. In FIGC, come dice qualche giornalista, regalano le maglie della Juve, non le maglie dell'Inter. E non lo dico io, lo dicono i giornalisti. Tra l'altro, ritornando a Doctri, poi magari ci vediamo più tardi ragazzi, se ho tempo, perché sono dei periodi dove sono veramente incasinatissimo. L'interesse è sempre ripagata al mercato con le cessioni e poi faceva i prestiti con obbligo. Quest'anno non ha ceduto nessuno, quindi siamo rimasti scoperti di circa 40-50 milioni, che erano i riscatti da pagare dell'anno scorso, Augusto, Frattesi, Arnautovic e forse mi dimentico, forse c'è anche una rata di Correa addirittura, l'ultima, che erano quattro rate Correa. Non essendoci stati i soldi delle cessioni, entro il 10 luglio ha ricoperto Doctri questa cifra. Quindi non date retta alle cazzate e alla falsa informazione che fa una persona che sicuramente ha bisogno di essere coccolato, abbracciato. Però te lo ripeto, ci sono 270 giorni per il bonus psicologo. Poi fai te, io lo dico per il tuo bene perché ti stanno abbandonando anche i tifosi della Juventus ormai. Ciao Inter.